È stata inaugurata nella sede dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Palazzo Strozzi a Firenze la scuola post-dottorale intitolata Eugenio Garen, la scuola supportata dalla Regione Toscana all'obiettivo di sostenere l'alta formazione e la ricerca post-laurea in ambito umanistico e rinascimentale. Presenti all'evento il presidente dell'Istituto Michele Ciliberto, il professor Massimo Cacciari e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. È un lavoro che facciamo anche volentieri, anche oltre le nostre strette competenze la Toscana poi garantisce un alto livello di diritto allo studio, compatibile con le risorse che abbiamo tra i migliori del paese, forse il migliore, garantisce borse di studio ulteriori per i giovani perché possano formarsi, fare ricerca. Nella scuola si svolgeranno seminari tenuti da studiosi di grande prestigio sia italiani che esteri e dai borsisti dell'Istituto. Questa scuola nasce da una straordinaria fiducia soprattutto nei giovani perché, come dico sempre, tutte le volte che mi è capitato di chiedere ai giovani di mettersi alla prova ho sempre avuto disposti straordinariamente interessanti. Non è vero che i giovani sono pigri, non è vero che non vogliono lavorare se vengono stimolati fanno cose straordinarie. Nel corso dell'evento a Palazzo Strozzi è stata sottolineata l'importanza e l'attualità dello studio dell'umanesimo in epoca contemporanea. Se è semplicemente un argomento di erudizione antiquaria non ha alcun senso se invece si comprende il carattere di novità radicale che per tanti aspetti presenta il modo in cui si rapporta il passato, la memoria, eccetera, eccetera allora se ne comprende tutta l'urgente attualità e ha un senso.